Da queste parti anche le pecore fanno istruzionismo. A un'ora che siamo qua. Prima o poi all'ovile dovranno tornare. Magari il 21 settembre, quando dovremmo essere già a Siracusa. Basta, ci penso io, vai. Ma ti fermo, e quei campagnoli sono armati fino ai denti. Sì, sono mercenari ceceni. Mi piace il cinema? Sì. E allora le avrete riconosciute sicuramente. Ma chi? Le pecore. Le mie sono pecore famose. Quella ha fatto squadra antimafia. Questa invece ha fatto Montalbani e Baharia. Mi sembrava un molto conosciuto. Questa è figlia d'arte. Sua madre ha fatto la piovra con Michele Placido. Bei tempi, quando ti pagavano il nero. Bei tempi. Vabbè, la chiacchiera è bella. Ma ora io devo portare le pecore che c'è un casting per 007. Passate, va. Grazie. Bocca al lupo. Si fa per dire. Vabbè. 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 Vabbè.